Fresco del rewatch del primo storico capitolo del 1988, sono andato in sala un tantinello preoccupato a recuperarmi il nuovo film dedicato allo spiritello porcello di Tim Burton. Beetlejuice, Beetlejuice, perché preoccupato? Perché lo stesso regista si è detto abbastanza stanco, privo di creatività, ispirazione e linfa vitale, al punto da volersi prendere una pausa dal medium cinematografico per dedicarsi maggiormente ad altre cose che avrebbero potuto rinvigorire il suo rinnovato amore per il cinema e di conseguenza si è dedicato alla lettura, alla scrittura e anche alla televisione. Infatti, è giusto dirlo, questo film arriva dopo che Tim Burton si è dato al piccolo schermo con la serie tv targata Netflix di mercoledì dove ha scoperto la sua nuova musa ispiratrice, Jenna Ortega. È giusto dirlo perché Beetlejuice, Beetlejuice ha un'impostazione terribilmente ambiziosa ma al contempo anche tanto televisiva. Devo dire che comunque una volta seduti in sala e iniziati i titoli di testa, io poco per volta sono entrato immediatamente nel mood e ne sono uscito estasiato. Il film mi è piaciuto e mi ha divertito dall'inizio alla fine. Il canovaccio del primo Beetlejuice era molto semplice, direi a tratti elementari, e la storia si sorreggeva completamente dall'incredibile warbuilding dell'aldilà di Tim Burton e dalla splendida esecuzione tra animatronica, animazione in clay e stop motion, fino allo splendido effetto prostetico di creature, mostri, make-up, chi più ne ha più ne metta. Ecco, la prima grande differenza che salta all'occhio con il suo sequel è che invece la trama di Beetlejuice, Beetlejuice è talmente ambiziosa, talmente ricca e pregna di sottotrame, che ai detrattori potrà arrivare quasi soffocante, dispersiva e anacquata. Non è così. Partiamo dal presupposto che è un'impostazione molto televisiva, e per questo primo citato Mercoledì. Infatti spesso e volentieri la scena passa da un ambiente all'altro, e in queste nuove location vediamo nuovi personaggi, interfacciarsi con altri personaggi ancora, e portare avanti delle trame parallele, che solo in apparenza sembrano slegate, ma poi confluiranno nella grande macro-trama del terzo atto, per poi spociare nel suo climax del bellissimo e sorprendente e imprevedibile finale che Tim Burton ha scelto per noi. La macro-trama di questo film è sostanzialmente sorretta dalle difficilissime e complicate relazioni che ha la famiglia Dietz. Nello specifico, la protagonista assoluta di questo film è Winona Ryder, che torna a interpretare il personaggio di Lydia. Ed è proprio dall'evoluzione del personaggio di Lydia che si vede anche l'evoluzione del regista e dell'uomo Tim Burton. Perché se nel primo Beetlejuice Lydia era in parte il regista e allo stesso tempo in parte quel pubblico che si sentiva incompreso, isolato, che era considerato dalla società un po' il reglietto per i propri gusti particolari e per le proprie tendenze ad apprezzare l'occulto, l'oscurità, il dark e il gotico, la Lydia adulta ripercorre tutto il sentiero della Lydia adolescente, tutti i tic, le gestualità, le movenze, le espressioni insicure, ansiosi e paranoiche, ma allo stesso tempo dimostrano come il disagio di Tim Burton abbia permeato la sua protagonista. Tim Burton a più riprese ha detto di essersi considerato una sorta di trofeo, di macchietta per i registi e gli studios. La gente lo chiamava perché voleva l'estetica gotica e decadente di Burton, a prescindere dai messaggi che dietro vi si celassero, vi si nascondessero. Ed è quello che fa la Lydia di questo film. Una Lydia che, da giovane, aveva questa sensibilità spiccata che la rendeva veramente una calamita per l'occulto, che riusciva a vedere i fantasmi, a relazionarsi con loro, e che da adulta ha deciso di farsi, tra virgolette, strumentalizzare da questa situazione, dando vita a uno di quei programmi trash sulla falsa riga dei Ghost Hunter. Questa cosa ha delle ripercussioni dirette su sua figlia, il nuovo personaggio introdotto in questo film, Astrid, interpretato da Jenna Ortega. Ed è il personaggio che mi ha colpito più di ogni altro, e il motivo è presto detto. Siamo di solito abituati a vedere Jenna Ortega in produzioni abbastanza atipiche, dark, creepy, passando da Mercoledì a Scream per Miller Girls e chi più ne ha più ne metta. E qui invece, paradossalmente, in un contesto bartoniano, quindi gotico, molto cupo, grottesco, e allo stesso tempo in un film sovranaturale, che vuole essere comunque un horror comedy, è il personaggio più normale. È forse il personaggio più ordinario non solo del film, ma di tutta la sua carriera. È giovanissima, ci mancherebbe, quindi chissà quanti altri ruoli normali e ordinari avrà. Però mi ha sorpreso che Astrid rappresentasse invece la voce del pubblico. Come reagirebbe uno spettatore se venisse catapultato nel mondo di Beetlejuice? Un mondo dove i personaggi sono sempre svenevoli, svampiti, superficiali, sopra le righe, e con degli scambi di battute davvero dissacranti, comici, sarcastici e anche votati al black humor. Mentre Astrid è una ragazza normale, e si relaziona a tutti gli altri con scetticismo, cinismo, snobbismo, e delle volte anche sconvolta e stupita da quello che sta accadendo attorno a lei, come se il dialogo a cui stesse assistendo o prendendo parte fosse troppo assurdo per essere vero. Ecco perché il suo personaggio diventa una sorta di ancora per il pubblico. Immediatamente dopo abbiamo la matrona di Beetlejuice, la fantastica Catherine O'Hara, che torna a interpretare Delia. Delia che era un personaggio a sua volta incompreso per le sue manie chic, superficiali e snob, e che adesso invece ha un'evoluzione da questo punto di vista, perché finalmente è stata accettata e riconosciuta in quanto artista, e allo stesso tempo ha anche convalidato e consolidato il suo ruolo di matriarca, soprattutto in relazione a un evento, che succede nel film e che mette in moto tutte le altre storyline all'interno della narrazione. Questo mi ha permesso di averla molto più in simpatia rispetto alla primo film e di avere anche a cuore il suo coinvolgimento in relazione a Lydia e ad Astrid. Ma la cosa più importante di Beetlejuice è che questo film è un urlo veramente spassionato al girl power in una maniera intelligente e per nulla forzata, anzi molto naturale, perché tre donne sono le grandi protagoniste di questo film e gli uomini che gravitano intorno a loro sono tutti problematici, sono tutti lascivi, sono tutti viscidi, sono davvero opportunisti e nella migliore delle ipotesi sono morti. Quindi è un film veramente sorretto dai caratteri femminili che sono davvero potenti. Quindi quando una tragedia come si evince dal trailer fa riunire le donne della famiglia Dietz a Winter River è anche l'occasione per ritornare in quella casa e di conseguenza avere a che fare dopo più di trent'anni di nuovo con Beetlejuice. Beetlejuice è interpretato da uno splendido, carismatico, sempre in forma Michael Keaton, è irresistibile nonostante sia ributtante, disgustoso, grottesco, sporco, cattivo, viscido e chi più ne ha più ne metta non si può non volergli bene perché la sua personalità, la sua espressività, la sua gestualità e il suo essere sempre così spietato ma al contempo cartunesco fa sorridere anche i bambini. In sala con me ce ne erano tanti e nessuno di loro si è spaventato. Beetlejuice è protagonista di una delle sottotrame, infatti è perseguitato nell'aldilà da Dolores. Una sua vecchia fiamma su cui non intendo dirvi di più ma che mi è piaciuto scoprire perché nonostante non ne avesse sentito l'esigenza nel guardare il primo Beetlejuice e non mi aspettavo succedesse in questo, c'è una retcon che ci permette di scoprire le origini dello spiritello Porcello, di capire chi fosse e come fosse quando era ancora vivo, come sia morto e perché il personaggio interpretato da Monica Bellucci sia il villain di questo film. Non voglio rovinarvi la sorpresa, vi basti sapere che l'anello debole sul fronte recitativo all'interno di questo cast così corposo e ricco è rappresentato proprio alla Bellucci che fortunatamente Barton fa parlare il meno possibile, sfrutta infatti la sua presenza scenica, la sua apparenza e, diciamolo, si sposa benissimo le atmosfere gotiche del film. Anzi, azzarderei a dire che Monica Bellucci sia protagonista della scena esteticamente più visionaria, ispirata, creativa e appagante di tutto il film. Le altre due new entry non sono assolutamente da meno, mi riferisco al Rory di Justin Theroux che interpreta un personaggio falso, ipocrita, costruito, lascivo, che non pensa neanche ma ha inserito il pilota automatico sempre volta a dire la cosa giusta nel momento giusto, ma è talmente finto, è talmente penoso che suscita compassione e hilarità allo stesso tempo nello spettatore tanto quanto frustrazione da parte dei personaggi perché non lo sopporta letteralmente nessuno nel cast, al di fuori per l'appunto di Lydia, che comunque ne sembra quasi intimorita e attaccata, è una dipendenza affettiva più che un vero e proprio amore, più che un vero e proprio sentimento. Mentre, se parliamo di personaggi irresistibili, sopra le righe, surreali, non posso non citare il Wolf Jackson di Will and Dafoe, che è sostanzialmente un poliziotto o non poliziotto, sembra un ibrido tra il giustiziario della notte di Chas Bronson da una parte, è il Tom Cruise più impenitente di Mission Impossible dall'altra, che vuole eseguire tutte le azioni più pericolose possibili e inimmaginabili senza stunt, incurante del fatto che purtroppo non ha la stessa bravura e fortuna. Lui rappresenta anche la componente crime del film, in una maniera molto buffa. Questi personaggi hanno delle sottotrame legate ad altri personaggi, con primari o protagonisti che siano, e potrebbe far pensare al pubblico più esigente, che magari annaquino il prodotto. Ma ancora una volta, lo ripeto, tutte queste sottotrame confluiscono nell'atto finale e, allo stesso tempo, hanno lo scopo di impreziosire e mettere sotto i riflettori tutti i personaggi della storia, con colpi di scena che si susseguono a dismisura, rivelazioni e sorprese, che ancora, per l'ennesima volta, a seconda del caso della circostanza, sembreranno esattamente come nel primo film, frutto di coincidenza, fortuna, casualità, destino o anche di elementi Deus Ex Machina. Magari non tutte le regole, non tutti i principi e non tutte le soluzioni sono a portate di mano, ma i personaggi improvvisano, vengono aiutati dal destino e dalla casualità, da aiuti imprevisti e puntualmente riescono a spostarsi dal punto A al punto B. È una scelta molto fiabesca, è una scelta molto ingenua, fanciullesca, che però, se vi è andata bene nelle regole, nella cosmologia del mondo magico del primo Betelgeuse, a rigor di logica dovreste poter accettare anche in questo suo seguito, perché tutti gli eccessi, tutte le ingenuità, tutte le problematiche, ma al contempo tutta la meraviglia, tutta la magia, tutta l'ilarità, la commedia, i pregi e la fantasia di questo incredibile pazzo folle mondo creato da Tim Burton ritornano in questo sequel, e anzi lo fanno in una maniera molto più coesa, molto più coerente, si sta molto più tempo nell'aldilà, e mettendoci in contatto con nuove aree, set e location, zeppi di citazioni a musica, cultura e costume dagli anni 70 agli anni 90, e ovviamente di personaggi morti in maniera violenta, indicibile e grottesca, ma allo stesso tempo, come Burton ci insegna irresistibile, perché il dualismo tra commedia e orrore, tra cupezza e ilarità, tra terrore e dolcezza, permia tutta la pellicola. Vediamo sempre il male, la morte, la paura, lo spavento, ma lo vediamo in una chiave di lettura molto comica, molto leggera, divertente e soprattutto cartonesca, infatti tutti i bambini in sala ridevano a squarciagola anziché spaventarsi davanti alle scene abberranti che si susseguivano a schermo. E la cosa più importante è che tutto questo confluisce in un terzo atto, pieno di musica, di danza e soprattutto di nostalgia, che cita molto il momento del primo film. Certo, la nuova canzone scelta secondo me non è all'altezza in termini di conicità di Day-Oh del primo film, ma allo stesso tempo, grazie alla componente tecnologica che permette oggi di girare in una maniera più precisa, certosina e spericolata, si hanno dei movimenti di camera e delle scene davvero molto belle e ispirate che richiamano tantissimo i musical da una parte e i videoclip dall'altra. Quindi secondo me il folcloristico cast di comprimari, villain, comparse e ovviamente i nostri amati protagonisti daranno il meglio di loro in quel momento che rappresenta il climax del film, accompagnando il pubblico di spettatori a un finale che è soddisfacente ma allo stesso tempo sorprendente e in pieno stile Tim Burton. La regia e il montaggio sono ancora una volta uno dei punti di forza di Beetlejuice. Nonostante la storia sia molto ricca, nonostante le location siano tante, nonostante i tempi sembrano relativamente stretti perché in un'ora e 45 succede veramente di tutto e di più, ogni personaggio ha il proprio spazio, ogni momento ha il proprio punto focale in cui riesce a brillare, in cui riesce a imprimere una vera e propria conclusione e questo porta lo spettatore a provare un senso di completezza e di compiutezza perché niente viene lasciato indietro. Certo ci sono delle ingenuità, lo ripeto, ma quelle stesse ingenuità fanno parte del mondo di Beetlejuice e soprattutto dello stile di Burton e non sono correlabili al precedente film o al contesto storico in cui si muoveva perché questo film nonostante arrivi nel 2024, abbia social network, internet, tecnologia, tormentoni che più ne ha più ne metta, è un film che sembra ancora rimasto nella sua epoca, nella miglior concezione possibile. È un Tim Burton molto fresco, molto moderno, che si ricongiunge al se stesso dell'epoca ma allo stesso tempo abbraccia anche la freschezza e la contemporaneità con gli easter egg, da qualche parte trovate citazioni a Batman, a Dune e anche alla Nevermore di mercoledì, ma pure con alcune stoccate perché credo che si sia voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Disney. È arrivato a fine corsa, si ha letteralmente la sensazione di aver fatto un viaggio nel tempo ed è stato un viaggio nel tempo talmente piacevole, talmente gradevole, talmente godibile e appagante che non solo per quanto mi riguarda davanti a un Tim Burton così ispirato guarderei più che volentieri un Beetlejuice 3, anzi, Beetlejuice, Beetlejuice, non posso dirlo, ma anche tantissime altre storie che il regista decide di portare al cinema. Quindi sono contentissimo di aver visto un film così divertente che mi ha pagato, intrattenuto fino alla fine e ripeto rappresenta la naturale evoluzione del primo film perché secondo me rivisti soprattutto oggi in epoca moderna questo film invecchierà molto meglio del suo predecessore ma allo stesso tempo sono contento che un regista si sia riuscito a mettere in contatto con la parte più autentica di se stesso e sia tornato a fare quello che ama di più, raccontare storie, le storie delle persone strane, di quelle isolate, dei reglietti, degli sfigati, di quelli che non vengono considerati abbastanza per conformarsi alla nostra società. Ben venga che c'è qualcuno che pensi a loro, che pensi a noi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e già che ci siete scrivetemi un commento. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!